Scuola calcio Monte San Martino, Domenico Jair ed il suo muro. Una mattina di primavera dell'anno 1963 si presentano sulla porta del mio ufficio un comitato di piccoli alunni delle scuole elementari, grembiulino nero e fiocco rosso sul colletto bianco. Nei primi anni 60 la popolazione monsanmartinese ammontava circa 1700 abitanti, essendo state da poco chiuse la gran parte delle scuole rurali, i due pulmini adibiti a trasporto scolastico affidati a due maestri della guida, quali erano Emilio Anselmi e Ferruccio Ghezzi, erano costretti a fare due viaggi. Di conseguenza una parte degli alunni arrivava a scuola un'ora d'anticipo. Al tempo la vigilanza scolastica era meno attenta di oggi ed i ragazzi ne approfittavano per impiegare la loro libertà, giocando a pallone nel piccolo spazio esistente nei pressi della scuola, in quello stesso luogo dove secoli prima troneggiava la chiesa di San Michele. Al termine delle lezioni le parti si invertivano, i ragazzi del secondo turno ingannavano l'attesa del ritorno dei pulmini disputando la seconda partita quotidiana. All'epoca abitavo a pochi passi dalla scuola e dal campetto e come gli altri abitanti della zona eravamo abituati a sentire le urla provenienti dagli accesissimi match. Quella mattina di primavera del 1963 il comitato dei bambini mi spiegò che le partite stavano sempre più degenerando e che ormai non potevano continuare così, avevano assolutamente bisogno di un arbitro. Naturalmente accettai l'alto compito e già dal giorno successivo mi procurai un fischietto come previsto dal mio nuovo incarico. Tutti i giorni arrivava al mio ufficio un ragazzo inviato ad avvertirmi che loro erano pronti. Quando giungevo al campetto li trovavo sempre già schierati e con la palla al centro. Come direttore di gara e neopadre di famiglia tendevo al pareggio salomonico cercando di avvantaggiare la squadra in difficoltà. Purtroppo, mio malgrado, non rari erano i cappotti, le sconfitte clamorose che bruciavano a quei ragazzi molto più delle numerose sbucciature alle ginocchia. Nonostante le partite fossero sentitissime mai nessun ragazzino si permise di mancare di rispetto all'arbitro. Quando ritenevano di aver subito un torto ingoiavano le lacrime, serravano la bocca ma subivano in silenzio. Un giocatore emergeva su tutti, l'indimenticato Domenico Conti conosciuto da tutti come Jair, da Jair da Costa fuoriclasse brasiliano della grande Inter di Herrera di cui Domenico era tifosissimo. Jair era dotato di una velocità e di un dribbling che facevano la differenza al campetto sotto il Monticello. Ricordo benissimo che il più prezioso suo compagno era il muro di cinta che delimitava il terreno di gioco. Jair calciava la palla con forza e maestria verso il muro, scattava in avanti ed il muro con perfetto assist gliela restituiva immancabilmente sui piedi. Per quasi vent'anni il rito delle partitelle tra alunni proseguì senza interruzione di sorta. Generazione di ragazzini si sono cimentate su quel piccolo spazio di terra abbattuta lasciando che le loro sudate si asciugassero al vento. Nel 1980 le scuole si trasferirono nel nuovo edificio e tutto cambiò. L'epoca delle sfide al Monticello con grembiulino nero e fiocco rosso su colletto bianco era terminata.